Missione compiuta a Santa Maria Capuavetere per i leoncelli terribili di mister Valeriano Loseto. Non si perde, si artiglia un punto e si fa un passo decisivo verso la gognata placida salvezza. Il posto più caldo resta l'infermeria, stavolta affollata di punteri fra Palazzo, Maffei e Corado. Il giudice sportivo, per soprammercato, stoppa l'imberbe esterno riefolo. Ma il tecnico figlio d'arte non ha paura di niente e risolve l'ennesimo rebus da consumato enigmista qual è, scegliendo il filino Petrarca fra i pali, la serratura difensiva ai nomi di Gianfreda, Silletti e Tangorre. Nel mezzo Lucchese governatore Celso affiancato da Mariani e Cardore, Cursoni di Granvaglia, Clemente e Chiaradia. In avanti il duo Tutto Possa e Lapilli, Figliolia, Moscelli. Il gladiato Roppone e Bufano in porta, reparto arretrato con Cipolletta, Mancini, Puca e Tomi, Squirzanti, Marianelli, Corigliano e Caruso la combattiva mediana. Messina e Tedesco, il bidente. Dopo le schermaglie incipitarie, i primi brividi. Minuto dieci, Squirzanti, Sgomma a destra e Crossa. Appostato su secondo palo, Caruso, Domo il cuoio e Stanga. Guizzo miracoloso di Petrarca. Poi Silletti, Prima e Mariani dopo, nettano l'area. Quando i protagonisti della Pugna si apprestavano a sorseggiare il solito Teccaldo, ecco il vantaggio dei padroni di casa. Corner di Tomi e inzuccata arguta di Puga. La scudisciata lascia il segno giusto nel senso che i leoni rientrano dagli spogliatoi ruggenti più che mai. Subito Gianfredas marca il gladiatorino in vitto che saetta dal limite, sfera sul fondo. 120 secondi ed è pari. Carullo fugge via e scodella al centro, Figliolia incorna volando e insacca nell'angolo. Al nono Squirzanti indovina Messina che pur in solitudine calcio a sbirolo. Due minuti è piazzato dai 25 metri di Tomi che non trova lo specchio. E così pari e patta ai piedi del monte Tifata e si può iniziare a gioire timidamente nei pressi del lombro del Tiflis.